In occasione della giornata internazionale di Croce Rossa e Mezzeluna Rossa, anche il comitato locale di Castrovillari ha partecipato alle iniziative nazionali, consegnando nelle mani del sindaco Lopolito la propria bandiera, che rappresenta il faro di solidarietà ed uguaglianza a cui 17 milioni di volontari in tutto il mondo si ispirano dal 1864. Tutti i comuni d'Italia esporranno la nostra bandiera nella settimana tra l'8 e il 14, che è la settimana dei festeggiamenti della Croce Rossa internazionale. La bandiera di Croce Rossa è un emblema in realtà, non è soltanto uno standard, perché sotto la bandiera di Croce Rossa è una bandiera antichissima, prima della bandiera italiana, quindi capite bene il valore simbolico e culturale della bandiera. Sotto questa bandiera ci sono i sette principi di Croce Rossa, che sono unità, imbarzialità, volontarietà, universalità e sono il nostro faro i principi in base ai quali noi lavoriamo. A livello locale noi pensiamo, così come suggerito dalla Croce Rossa nazionale, di dare un messaggio alla cittadinanza, anche solo con questa esposizione, però faremo altre attività e illustreremo anche le attività che facciamo a livello locale, che sono tante. E poi siamo a sostegno di tutti quelli che hanno bisogno e che ci richiedono il loro aiuto.